Ancora disagi per i circa 80 alunni della scuola primaria della San Pietro Celestino di Sernia. Dopo il trasferimento dall'edificio del centro storico, ritenuto non sicuro, alla sede di San Lazzaro della Giovanni XXIII, oggi un'altra novità. In seguito all'apertura della sezione primavera, una classe è stata per così dire sfrattata, hanno denunciato i genitori. In attesa di una soluzione, gli alunni si sono ritrovati nei corridoi. Per le mamme questa è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per protesta hanno riportato i loro figli a casa. Ad oggi noi non abbiamo una scuola dove portare i nostri bambini. Siamo stati poggiati qui solo per dieci giorni, c'era stato detto, però con continui spostamenti, cioè i nostri bimbi dovevano andare ogni settimana in un'aula o in un'altra. In più c'era anche un problema per i bagni, perché i nostri bambini non avevano i bagni. Questa mattina è successa una cosa ancora più brutta per noi mamme, perché c'è stata tolta l'aula dove erano i nostri bimbi di seconda e i bimbi non sapevano più dove andare, quindi le maestre sono dovute stare nel corridoio con questi bambini. I bimbi piangevano tutti e noi mamme di Comune Accord abbiamo deciso di riprenderceli. Il dirigente scolastico, Rossella Simeone, ha ridimensionato il caso parlando di un disagio provvisorio. Il problema sarà risolto entro 48 ore, ha detto. Si tratta solo di dividere un'aula con una parete in cartongesso che gli operai del comune realizzeranno al più presto, ha concluso. In mattinata i genitori si sono recati al comune per chiedere spiegazioni e possibilmente una soluzione definitiva che metta per sempre la parola fine ai disagi. Noi chiediamo non una scuola fantasiosa, come ci è stato detto, perché ci è stato detto che questa è una scuola fantasiosa per noi, ma una scuola sicura, una scuola dove i nostri bimbi possono andare un intero anno scolastico, avere delle aule dove le maestre hanno cattedre e lavagne per poter lavorare tranquillamente. Sulla situazione delle scuole di Sernia e sulle ultime problematiche che hanno interessato la San Pietro Celestino sono intervenute anche le minoranze, accusando l'amministrazione di dilettantismo e presunzione. Il consigliere comunale di Alleanza per il Futuro, Giovan Carmine Mancini, ha annunciato un'interrogazione.